Colpo alla cosca di Indrangheta Cianci Maio Anoman, operante a San Martino di Taurianova. Questa mattina sono scattate le manette per otto presunti vertici del clan, di cui sei sono destinatari della custodia cautelare in carcere, mentre altri due della misura agli arresti domiciliari e indagati a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni. Le operazioni sono state coordinate dalla Direzione Distrittuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri. I investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Taurianova, con il supporto di quello di Cittanova, hanno dato via all'operazione. In carcere sono finiti Domenico Cianci, Concettina Grigora, Domenico Forgetti, Giuseppe Mavrici, Damiano Forgetti, annunziato Chirico, mentre ai domiciliari Rachele Cianci e Damiano Cianci. Le attività investigative, coordinate anche dal procuratore aggiunto Calogero Gaetano Paci e dal sostituto Giulia Pantano, sono state condotte all'indomani dell'inchiesta Vecchia Guardia, che nel 2014 aveva colpito la cosca Cianci Maio Anoman guidata, secondo gli investigatori, da Domenico Cianci. Dopo l'arresto nel 2014 del presunto boss Cianci, l'indagine è proseguita attraverso le intercettazioni dei colloqui in carcere di quest'ultimo con i suoi familiari e, malgrado lo stato di detenzione, il Cianci ha continuato a impartire disposizioni per richiedere ai proprietari terrieri, imprenditori e commercianti il pagamento di somme di denaro e l'acquisizione di beni a titolo estorsivo. Per la DDA Regina, la cosca Cianci Maio Anoman esercita l'influenza imponendo estorsioni sulle operazioni immobiliari e attraverso l'antico metodo della guardiania sui fondi agricoli. Si tratta in realtà di un potere mafioso esercitato in un contesto essenzialmente agricolo e pastorale. L'indagine ha fatto emergere anche alcune responsabilità in relazione all'intestazione fittizia di beni per eludere le disposizioni di legge e per agevolare il riciclaggio dei proventi delle attività di estorsione e di altri delitti contro il patrimonio. Il presunto boss Cianci intestava fittiziamente ad altri esponenti della famiglia la titolarità di vari terreni di grande estensione.